E' una viola acciaccata quella che scenderà in campo alle 18 contro il Barcellona Basket per la seconda amichevole stagionale. Oltre al risentimento muscolare del capitano Marco Mordente che da una settimana lo costringe a svolgere lavoro differenziato, in dubbio la presenza dei due americani per il test di oggi pomeriggio. Se Austin Freeman potrebbe riposare in via precauzionale a causa di un piccolo infortunio, la situazione di Craig Breckings sta diventando un piccolo giallo. L'ex Iowa State si è presentato in ritiro con qualche chilo di troppo e le sue delicate ginocchia sembrano risentirne. Ha riposato per due giorni per ordine del medico sociale della viola il dottor Calafiore, ma ieri si è allenato regolarmente. Il 5 americano però ha mostrato movimenti lenti, una forma ben lontana dal 100%. Insomma, per il momento Breckings sembra un lontano parente del giocatore per cui la società Nero Arancio ha compiuto un grosso sforzo economico. In dubbio dunque la presenza del gigante sotto canestro per una viola già decimata dagli infortuni. La nota positiva in casa Nero Arancio è che manca poco o meno di un mese all'inizio del campionato. Tempo sufficiente perché i giocatori recuperino la forma migliore.